A Taranto ci sono gli abitanti di A e di serie B, i cittadini di serie A e i cittadini di serie B. Veramente quelli che stanno in serie A sono solo quelli che vivono nel pieno centro Umbertino, via di Palma e via d'Aquino, perché poi per il resto della città regna il degrado assoluto. E ci sono delle stranezze. Pensate, mi trovo in Via Emilia, guardate, è una traversa, lo sapete tutti, di Viale Maglia Grecia e sembra che questa via, questa strada sia stata completamente abbandonata da tutte le amministrazioni, ma la rinascita fantasiosa, tanto sbandierata da Melucci, evidentemente non ha riguardato questa zona. Una rinascita, per la verità, che non si trova in nessuna parte di Taranto, se non nella fantasia e nell'ipocrisia di Rinaldo Melucci. Guardate, Via Emilia, il manto stradale completamente sconnesso, rappezzato, toppe su toppe di asfalto, perché non è mai stato rifatto, e quindi le singole toppe hanno creato un mosaico. Ma l'aspetto che mi ha incuriosito, perché alcuni abitanti della zona mi hanno sollevato la problematica, è che in tutta la storia non sono mai stati pavimentati i marciapiedi, mai. Un qualcosa di incredibile, non si è mai visto. Io posso capire dei marciapiedi i cui mattoni, con l'andare del tempo, si rompono, si spaccano, si usurano, ma qui invece mai, mai e mai buttato un po' di cemento, nella migliore delle ipotesi, un po' di asfalto. Qualche privato ha provveduto a fare il suo tratto antistante l'entrata, ma per il resto, vedete, la maggior parte, la quasi totalità, la quasi interezza dei marciapiedi di Via Emilia sono in questo stato, uno stato vergognoso. Guardate, qui è emerso proprio il cemento, ripeto, rappezzi di asfalto, cordoli dai quali escono anche i ferri, quindi pericolosissimi. Ci domandiamo se questa è la rinascita che Melucci dice di aver seminato e insieme a lui Musillo, Musillo che, lo ripeterò fino alla noia, fino alla nausea, ha amministrato quattro anni e mezzo con Melucci. Ora non raccontasse chiacchiere ai cittadini, non si lamentasse del degrado, perché lui è autore complice di questo degrado, avendo lui responsabilità amministrative pari a Melucci, avendo suoi uomini nella giunta, persone di sua fiducia nella giunta, nelle società partecipate e in tutte le realtà con cui Melucci ha governato o sgovernato, passatemi questa espressione, la città. Vedete, qualcosa di incredibile, marciapiedi mai fatti. Il 12 giugno si avvicina, volete il nulla cosmico di Melucci e di Musillo o volete una persona come me che per Taranto ha sempre lottato, da giornalista per 21 anni e mi auguro da primo cittadino dal 12 giugno. Ora dipende solo da voi.